Grazie a Daya, a 4.20 circa, e mi sono accanto a questo gruppo, non sapete inizialmente quando a coste, inizialmente quando a coste, però, insomma, andiamo a non aver parlato di questo gruppo, perché ci sono gli italiani del nuovamento dello spirito, ho fatto la presenza del termone di Maria, e però io non avevo mai partecipato a questi gruppi, e ho visto, insomma, praticando, che ho trovato quello che vogliono gestire in un'analisi di oggi, insomma, di rinnovamento, di solidarità, che per la società, e adesso non ci sono queste cose, sono più tradiziate, sono servite anche da noi italiani, magari non siamo più tanto adetti a praticare queste cose, no? Quindi tanto io vi ringrazio a tutti quanti, perché io posso dire, in questa testimonianza, che la providenza mi sta aiutando a fare il mio lavoro, quindi la providenza mi sta, che è un aiuto divino, no? Quindi, uno credento cerca di ammigliarsi a queste cose, no? E io vi ringrazio praticamente al Signore Gesù per questi fratelli, per aver incontrato tutta la comunità dei salari, e quindi gloria a Dio, che gli inviti, 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 quello giusto, insomma, da percorrere, sarà bene a voi e sarà bene ancora. Va bene, Dio, grazie.